Se potessi tornare indietro, cancellarli tutti e decidere di fare un pezzo gigantesco solo su una cosa, nerd. Dedicata a un unico universo? Sì. Beh, dal punto di vista grafico-artistico sicuramente la Marvel aiuterebbe molto. Però credo dividere il mio corpo, fare una sorta di full body giapponese diviso a metà fra Star Wars e Harry Potter.